Allora direttore io partirei prima dal dato politico, intanto qual è il dato politico rispetto a questo braccio di ferro che ieri ha avuto il suo apice con l'intervento sui social della Premier Giorgia Meloni? Ma intanto il dato politico essenziale è che, e credo sia anche una novità in assoluto, è che Giorgia Meloni, il capo del governo e leader del partito di maggioranza relativa, si rivolga al capo dell'opposizione per dire, per favore fai tacere De Luca. Questo già racconta tutto, il Presidente del Contiglio invece di rispondere nel merito bada al metodo, che è un metodo certamente sbagliato se si vuole, si parla del turpiloquio di De Luca, è vero De Luca con le parole talvolta esagera, però turpiloquio è anche non dire la verità, turpiloquio è anche fare una campagna su numeri falsi, perché di questo si tratta, parliamo dei fondi che non vengono dati da fitto alla Campania e al Sud. E questo è il punto, l'essenza politica di questa polemica a me pare che sia proprio il tentativo della Meloni, il tentativo del governo di dirottare l'attenzione, una manovra distrattiva. De Luca dice, ci dovete dare i soldi che aspettano alla Campania e al Sud e aggiunge, e lo dice anche Calenda, ci sono centinaia di imprese che vanno via dalla Campania perché non hanno quello che devono avere e quello che devono avere sono esattamente i soldi di cui stiamo parlando. E questo è il punto, tutto il resto, suoi chiacchiere, ripeto, il turpiloquio è anche il ministro Fitto e il ministro Sangiuliano che dicono cose non vere, tutto qua. Ma veniamo ai numeri direttore, come anticipato e come sottolineato anche da Manuela Galletta, il ministro Sangiuliano, Gennaro Sangiuliano, è tornato sulle accuse rispetto alla mancata spesa sui fondi che riguardano la Campania. Vediamo qualche numero, numeri ufficiali ovviamente, il PORF SER 2014-2020, dotazione finanziaria di 3 miliardi e 6, spesa sostenuta oltre la dotazione finanziaria di 4 miliardi di euro con una capacità fino ad ora certificata sulla spesa, dunque sui progetti portati avanti dell'81%. Passiamo alla POC 2014-2020 che riguarda un po' il cuore della situazione dei cosiddetti fondi di coesione. Dotazione finanziaria per la regione Campania 2 miliardi e 2 rispetto a risorse programmate per 2 miliardi e 4, siamo al 103% in overbooking. In questo caso abbiamo una certificazione della spesa pari al 58% della dotazione finanziaria del programma. Sono questi numeri che mi fanno affermare che se De Luca esagera con le espressioni forti, non può oggettivamente parlare di delinquenti politici al governo, insomma non sta né in cielo né in terra, però ripeto è turpiloquio anche quello del ministro Sangiuliano che fa passare, e lo sta facendo da parecchi giorni, da un paio di settimane, fa passare dei dati non veri, buttando in questo modo fango in faccia alla regione Campania, all'istituzione, ma soprattutto facendo un danno enorme perché intanto quei soldi sono fermi nel cassetto del ministro Fitto. E' questo, ecco perché parlavo di manovra distrattiva, rispondessero nel merito, qua nessuno può immaginare che si faccia il processo di beatificazione al presidente della regione Campania De Luca, a tutt'altro, non beatifichiamo nessuno, ma in ballo c'è una cosa sostanziale molto grave, soldi che servono, ripeto, imprese che se ne scappano perché non ci sono le condizioni per fare le cose, e per quanto riguarda Sangiuliano tutti i fondi destinati alla cultura ancora bloccati, è questo, poi arrivano i numeri veri, la certificazione di questi numeri, fatta quindi un documento, e adesso che cosa diranno? Che cosa diranno? Che De Luca fa il turpiloquio? Ricominciamo da capo, attenzione, state governando male, questo è il punto.